8 sono i gol di Vincenzo Torsiello che si conferma l'attaccante più prolifico tra i campionati di eccellenza e promozione in cui sono coinvolte società erpine. Il bomber di Laviano è attualmente il capo cagnoniere del girone C di promozione. In eccellenza la corona momentaneamente appartiene a Vincenzo Liccardi, autore di 7 reti. 6 sono le sconfitte subite dalle società maggiormente battute, una per campionato. In eccellenza detenere tale record negativo è il Valdiano, mentre in promozione la Bisa accese, anche se la formazione allenata dal neotecnico Specchio ha giocato una gara in meno rispetto alla squadra salernitana. 4 sono invece le società imbattute tra eccellenza e promozione. Si tratta di Ebolitana e Nola nel massimo campionato regionale, con la differenza che la formazione bianconera ha conquistato una vittoria in meno 5 rispetto alle 6 dell'Ebolitana. In promozione invece solo Virtus Avellino ed Accadia non hanno perso. Anche in questo caso c'è differenza sulle vittorie ottenute. Ben 8 quelle della formazione allenata da Rino Criscitiello, 5 invece sono quelle conquistate dall'Accadia. 2 sono infine le squadre maggiormente avezse al pareggio. Entrambe appartengono al campionato di eccellenza. Rinascita US Vico e Picciola hanno ottenuto ben 5 pareggi. La curiosità è che per ben 4 volte la formazione nolana è riuscita a riacciuffare la gara, situazione inversa per il Picciola che è stato raggiunto per ben 3 volte.